Oggi ci troviamo a Tollo per seguire la preparazione pre-campionato della Tollese accreditata in prima fila, almeno così dicono gli addetti lavori, non dico per vincere il campionato ma sicuramente visto l'organico allestito anche dal DS Matteo Deusanio per fare bene, o no Matteo? Beh, io penso che a inizio campionato tutti vogliono vincere e tutti vogliono fare bene io non penso che vogliono fare brutte figure tutte le squadre noi abbiamo perso dei pezzi rispetto alla scorsa stagione, li abbiamo subito rimpiazzati diciamo che vogliamo fare un campionato tranquillo e stare nelle zone alte della classifica poi quello che viene è tutto di guadagnato Rispetto all'anno scorso ci sono stati diversi movimenti, ce li vuoi riassumere? Sì, allora abbiamo preso, abbiamo cambiato la coppia centrale di difesa abbiamo preso Mario Semai, lo scorso anno era Orto, alla Virtus Ortona abbiamo preso Marco Tintino che lo scorso anno aveva iniziato la stagione a Lanciano però dopo si è fermato, a centrocampo abbiamo preso Santarelli e Petrone che non hanno bisogno di presentazioni e davanti oltre a Omar Cipri, anche lui conosciuto in queste categorie abbiamo preso Carmine Perrella l'ultimo acquisto che è stato fatto dal Boiano e poi tanti ragazzi, tanti under, abbiamo preso dei ragazzi Ciartelli e Lanzara dall'Atletic Lanciano ci siamo mossi bene, abbiamo fatto una buona squadra, abbiamo un gruppo di 24-25 ragazzi e cerchiamo di fare un gran campionato e con gli under di fare anche una grande stagione nella Juniores E poi ricordiamo che anche la società si è rinforzata numericamente perché a darti una grossa mano c'è anche Marcello Cicchitti, un gradito ritorno per lui anche perché sappiamo che tu ti devi un po' sdoppiare anche nell'attività nuova del calcio femminile Sì, allora la società ha voluto fortemente che Marcello tornava con noi lui qua è di casa quindi la porta per lui era aperta darà una grande mano sia al settore giovanile anche che da quest'anno abbiamo una categoria in più che sono gli allievi abbiamo deciso di puntare forte insieme al mister Carlo Di Gionno di fare questa nuova categoria e quindi io mi occuperò un po' più degli allievi e del calcio femminile perché quest'anno anche per la prima volta qui a Tollo siamo riusciti ad organizzare una squadra di calcio femminile partiremo il primo settembre con 28 tesserati quindi Marcello darà una grande mano sia alla prima squadra che alla Juniores Vogliamo parlare per concludere anche delle avversarie quali ti sembrano le meglio attrezzate? Beh, diciamo che ci sono delle squadre che in questo girone dobbiamo essere obiettivi ci sono delle città importanti quindi vedere che Ortona la prima squadra è in promozione vedere che La Tessa è in promozione vedere che San Salvo è in promozione queste sono grandi città quindi sicuramente ci saranno delle aspettative da parte loro però io penso che comunque per me personalmente la favorita è numero uno sia per una questione di amicizia che una questione di giocatori che conosciamo il Miglianico per me sarà una squadra da battere A riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto anche nei pochi mesi a disposizione prima della pausa dovuta alla pandemia la società ha riconfermato in panchina il mister Matteo Pasquini che può avere a disposizione quest'anno un organico di tutto rispetto forse anche migliore di quello della scorsa stagione Sì, l'anno scorso avevamo fatto bene nelle prime quattro partite comunque eravamo in testa della classifica poi è successo quello che è successo quest'anno abbiamo ringiovanito un po' la squadra e abbiamo sostituito qualche calciatore con giocatori esperti e sicuramente abbiamo guadagnato qualcosa sotto questo punto di vista ma sicuramente la squadra può recitare un ruolo importante in questo campionato Quali sono i calciatori che ti hanno particolarmente impressionato? Quelli che magari non conoscevi bene e che si sono rivelati i migliori delle più rose aspettative? Sicuramente i ragazzi fuori quota perché con alcuni non li avevo mai visti giocare quindi mi hanno fatto un'ottima impressione soprattutto in queste prime uscite che abbiamo fatto per quanto riguarda i senior li conosciamo tutti quindi sia di nome sia quello che possono fare in campo quindi credo che su loro c'è poco da scommettere sono già delle certezze sui ragazzi fuori quota sono rimasto molto soddisfatto del pacchetto che la società mi ha dato E la società che cosa ti ha chiesto a livello di risultati? Sicuramente un campionato come quello dell'anno scorso di alto livello non ci siamo prefissati una vera e propria situazione però chiaramente vogliamo fare bene e vogliamo cercare di arrivare il più alto possibile con questa squadra possiamo giocarcela con tutti quanti Avete già disputato qualche amichevole? Ci sono stati dei segnali importanti? Sì, una l'abbiamo fatta proprio ieri con il Chieti chiaramente formazione di Serie D dove sia fisicamente che tecnicamente avevamo poco da dire però sono rimasto molto soddisfatto perché abbiamo fatto 60 ottimi minuti e poi abbiamo dato un po' sfogo anche ai ragazzi della Juniors che avevamo queste prime uscite vedo una squadra comunque che vuole fare bene quindi sono soddisfatto Calciomercato ad alti livelli ha i fuochi pirotecnici nelle ultime giornate voi nei dilettanti ad esempio la Tollese ci si deve aspettare qualcosa altro oppure siete a posto così? Al momento siamo a posto con la società abbiamo fatto una piccola riunione quindi abbiamo cercato di capire se poteva esserci qualche altra soluzione siamo sempre vigili però dobbiamo forse anche sfoltire qualcosa visto che siamo veramente tanti quindi al momento siamo a posto se può uscire qualcosa che può aiutare a migliorare la qualità della squadra magari ben venga Come dicevamo prima con il DS torna ben voluto da tutti Marcello Cicchitti quest'anno ricopre un ruolo importante responsabile dell'area tecnica quindi è colui che deve mantenere saldi rapporti tra la squadra e il gruppo tecnico oltre che la dirigenza ovviamente Ma io sono tornato qui e il ruolo è poco in porta perché siamo un gruppo di amici mi va innanzitutto di ancomiare le persone che gestiscono questa società da Dante Ciccotelli che è il presidente a Maurizio Primavera che è il direttore generale e tutti gli altri dirigenti che si fanno in quattro per portare avanti questa società quindi al di là della squadra che sicuramente ha un bel progetto io credo che una nota di merito vada fatta alla società per la lungimiranza ormai questi sono diversi anni che sono tutti insieme e stanno mettendo un tassello un anno dopo un altro io sono arrivato qui che la squadra era processa in seconda categoria poi piano piano mettendo un mattone ogni anno siamo arrivati qui in promozione e quest'anno sicuramente abbiamo una squadra che ci farà togliere delle belle soddisfazioni Per concludere vogliamo dare uno sguardo anche al resto del campionato a cominciare dai vostri dirimpettai una squadra che conosce molto bene il Miglianico che è tra le papabili al salto di categoria ma non solo Sì, Miglianico è una squadra che sicuramente è la candidata numero uno alla vittoria finale perché viene da un progetto iniziato l'anno scorso dove facevo parte pure io quindi al di là della tollese poi farò tifo per il Miglianico all'infuore del derby ovviamente quella è una squadra che segue già un progetto quest'anno la società nuova ha rinforzato enormemente la squadra sicuramente è una squadra che ponderà a vincere ma come diceva anche Matteo Tollo è un paese importante con una squadra costruita cioè Tollo-Ortona costruita da diversi anni San Salvo e San Salvo a tessa e a tessa quindi troveremo qualche outsider e quindi sicuramente sarà bello e avvingente il campionato e poi sarà il campo a decidere chi è stato più bravo a luglio A tollese dicevamo a quest'anno una piacevole novità il calcio femminile che sta prendendo piede anche in ambito dilettantistico Sì, noi abbiamo ricostruito questa squadra abbiamo costruito questa squadra di calcio femminile abbiamo già partecipato al torneo di ripartenza dove c'erano solo quattro squadre facendo bella figura adesso sicuramente si sta creando un bel gruppo fra tre o quattro giorni inizieranno la preparazione e vorremmo fare bella figura anche lì a Tollo si è creato un bell'ambiente dove si può fare sport in modo sano in modo corretto e senza spendere grosse cifre grazie a tutti grazie a tutti